Amore, è pronta la colazione? Ora non ho tempo, ma mi torno dopo Ok, adesso mettiamoci al lavoro Beh, che c'è? Sono in pausa pranzo Architetto, cosa ne dice? Possiamo farcela? Mi faccio controllare No, tesoro, fumo! Si va in scena Benvenuti da MaxiZo Mi raccomando, rispettate la fila Si, però tesoro, adesso mi ridai il computer Na 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 No, tesoro mi raccomando, rispettate la fila